Ciao a tutti ragazzi, questo è il terzo video che registro in questo giorno perché sono nuovo su YouTube e oggi siamo su Roblox e farò questa mappa che devo cercare aspettate un secondo credo che questa mappa la conoscete perché è molto famosa è una mappa horror, si chiama Ascensore dell'orrore Horror Elevator e direi che ci facciamo qualche giro in ascensore in cui ci prenderemo molti infarti e già avete sentito una voce strana questo è il mio personaggio molto bellino perché sento cose strane aspetta ma what the fuck ok sono sopravvissuti tizi e ora entriamo nell'ascensore sicuro dell'infarti ma per Dio sicurissimo crystal night che dovrebbe essere questi sono i versi di Jason infatti Jason salto 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 no mi ha pizzicato sono scarsissimo non so se rientrare perché Jason non è che mi piaccia così tanto ci sono New Killers Freddy Krueger ma già c'era Freddy Krueger chi è sto qua ben notizio che cos'è qua figo oh è lino sullo schermo ok adesso c'è un altro ascensore si vai chi è il mostro di oggi di oggi di questo giro Alley Way non so chi sia perché Baldi passiamo in un vicolo brutto Baldi in un vicolo brutto è distrutta è questa magari comunque non so se ho fatto bene ad aprire questo canale di messaggio così ho tutto il tempo di pubblicare video io sono nascosto ah ma c'è la torcia non l'avevo vista ma non fa nessuna luce scusa ma che torcia è torcia dei chinesi di 2 centesimi ok sono sopravvissuto ah ma ora non posso più uscire quando sono sopravvissuto e poi sta torcia cosa fa fa un rumore bello credo che fare faccio quest'ultimo giro d'ascensore e credo che poi chiuderò il video comunque sono figli è bellissimo questa cosa che è sto qua oh mio dio oh è la leather face mannaggia questo lo sa io direi di concludere il video con questo teddy e con queste scarpe super veloci e spero che questo video vi sia piaciuto io e il mio orsetto vi salutiamo e ciao a tutti